Sei un uomo che guida la moto, andiamo a fare i pinicli. Ore sei del mattino. La sveglia suona incessantemente. La spengo perché sono già sveglio. Anzi, non ho mai dormito da ieri sera. Perché? Come continuare questo racconto? Hai dagli otto ai sedici anni? Mamma, papà, iscrivi tuo figlio al laboratorio di scrittura creativa gratuito, la stanza dei racconti di Epicurea. Manda whatsapp al 346 424 7400. Fantasia batte paura 10 e 0. Questo laboratorio fa parte del progetto Futuro Nonni. Ci trovi su Facebook.